Buongiorno a tutti, sono Giulia Del Monte della società Digital Mac, per il secondo anno siamo ospiti alla Mac Spee in associazione con i Cluster Mac. Oggi abbiamo appena concluso il nostro speech, in particolare ci siamo concentrati su due aspetti fondamentali che stiamo approfondendo in questi mesi di lavoro nella nostra azienda, il Digital Twin è integrato poi con quello che è il settore metrologico delle aziende in partnership con ZEISS, torniamo appunto un software chiamato P-Web che è in grado di controllare tutti i dati metrologici degli stabilimenti. E' stato sicuramente anche quest'anno molto interessante, un'occasione bellissima sia per conoscere colleghi che per conoscere nuove realtà con cui fare squadra e con cui collaborare.